Io sto bene e spero che anche voi stiate tutti bene in questo periodo c'è un grande problema di epidemia di provenienza dalla Cina che si sta diffondendo in tutto il mondo e ad oggi in particolare qui in Italia. Per questo motivo all'Istituto l'Amazon Kappa abbiamo scelto di offrire i programmi del Basic Master's Program e i corsi del fine settimana nella modalità online. Ci siamo organizzati in questo modo per prevenire la diffusione della malattia anche nel rispetto del decreto ministeriale per evitare assemblamenti. Questo sabato e domenica 21 e 22 marzo alla mattina darò insegnamenti in diretta streaming sui tre principali aspetti del sentiero composto dal grande maestro tibetano, l'Amazon Kappa. Vorrei aggiungere una parola relativa al contributo che anche voi potete dare nella prevenzione e nella diffusione di questo contagio. Per prevenire questa malattia vi suggerisco di fare la lode alle 21 Tara e recitare il suo mantra Om Tare Tu Tare Ture Soa. Ci sono 21 strofe delle Lodi a Tara composto dal Buddha Vairocciana e in particolar modo la strofa numero 20 è per eliminare la malattia epidemica. Anche su Sant'Ital Dalai Lama ci ha consigliato di recitare il mantra di Tara per evitare la diffusione di questo virus e c'è anche una versione breve delle 21 Lodi a Tara che si può recitare facilmente. Quando il grande maestro indiano Atisha arrivò in Tibet dall'India era molto malato e fece una richiesta a Tara per sapere qual era la pratica migliore per la sua salute. Tara rispose di recitare le 21 strofe delle Lodi a Tara 10.000 volte al giorno. Ma Atisha le rispose che questo era troppo per lui nelle sue condizioni. Quindi Tara gli disse di recitare la la Lodi a Tara in forma breve o estesa è molto importante. Se non avete contratto ancora la malattia rigioite. Al contrario se avete contratto il virus non preoccupatevi ulteriormente perché se vi preoccupate eccessivamente peggiorerete la vostra situazione. Il discepolo di Atisha chiamato Dotonpa diceva alle persone di avere maggiore fiducia nella divinità Tara che nelle persone ordinarie e questo significa che quando siamo ammalati è molto importante affidarsi ad una divinità come Tara. Possiamo dunque affidarci con le nostre preghiere a Tara oppure a Pal dell'Amo recitando il loro rispettivo mantra. Io prego perché tutti voi possiate rimanere sani e non contrarre la malattia. Vi mando un caro saluto. Saluto.